Ciao, sono Andrea, sono italiano, ci troviamo oggi a Cross Harbour, siamo andati a guidare il Segway with Time Out Experience. È stata un'esperienza bellissima, abbiamo passato mezz'oretta facendo un po' di pratica in un percorso guidato, poi siamo andati a guidare in un campo da golf, poi abbiamo preso, siamo andati sulla spiaggia, poi siamo andati in cima a una collina, siamo scesi, è stata una cosa magnifica, pensavo fossero dei veicoli, diciamo, un po' per persone anziane, invece non è una cosa per persone di tutta l'età, puoi divertirti dai 10 anni ai 100 anni, una cosa perfetta. La signorina che ci ha portato la nostra guida è stata gentilissima, ci ha fatto provare un po' di tutto, ci ha spiegato come sentirci in sicurezza, qualcuno è anche caduto, ma nulla di particolare, cioè, tranquilli. Provate, ciao ciao! Grazie a tutti!